Prodezza dell'attaccante o papera del portiere, pare più la seconda nel caso di questo gol da 90 metri segnato in Arabia Saudita durante la partita tra Ayer e Al-Ali del 3 febbraio scorso, valida per la Coppa del Principe Saudita. Presa palla appena fuori dalla propria area il capitano della Lali, Mohamed Massad, l'ha scagliata in direzione della porta. Probabilmente aveva visto fuori dai pali l'estremo difensore che infatti dopo un rimbalzo del pallone, complice anche il campo non in perfette condizioni, è stato beffato scatenando la gioia dei tifosi ospiti. Grazie a questo gol il match è finito 3-2 per la Lali che si è qualificato per i quarti della Coppa. Grazie a tutti.